E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto, io sono Emiliano e anche questa sera andiamo insieme a fare il nostro consueto update di analisi tecnica, andremo a vedere quello che sta accadendo ai grafici di Bitcoin, delle principali criptovalute e andremo anche a capire quello che accade un pochino in overview al settore. Ma come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti li reputaste utili e interessanti per la vostra analisi, i contenuti che faccio sono prettamente time sensitive e quindi vi invito anche a iscrivervi al canale col clic sulla campanellina perché? Perché è l'unico modo per ricevere gli update in tempo ok? Già a vedere un update dopo qualche ora a volte può perdere significatività quindi io vi invito appunto a vederli on time. Vi invito anche ad andare a controllare tutti i link che trovate qui sotto in descrizione perché sono i principali servizi che vado ad utilizzare direttamente. Partiamo, partiamo da Bitcoin. Allora Bitcoin cosa sta facendo? Semplicemente ci stiamo appoggiando sul nostro supporto. Il nostro supporto ha 41,541 ok? Questa zona qua. Abbiamo parlato questa mattina della chiusura della candela di ieri, una chiusura bearish, fondamentalmente molto bearish perché ha smorzato, i bears hanno smorzato il nostro impulso rialzista andandoci a delineare molta molta forza short ok? A questo punto abbiamo aperto questa mattina abbastanza green ma niente di particolare infatti stiamo andando di nuovo in una fase appunto di ribasso. Non mi piacerebbe vedere persa in prima battuta la media mobile EMA esponenziale a 200 periodi daily perché si trova in zona 41,9, ci troviamo in zona 41,6. Dobbiamo vedere le chiusure però intanto, intanto questa è già una prima una prima red flag ok? Dopodiché ci stiamo appoggiando sul supporto. Se il supporto non dovesse mantenere ragazzi allora a quel punto io credo che un'accelerazione in zona 38 potrebbe davvero arrivare e vedere un pochino come approcciamo queste zone qua dei 37,38. Questo è lo scenario bearish ok? Sulla scenario bullish vuol dire un recupero della situazione di questa giornata andare a ritestare il nostro precedente appunto livello di supporto che era flippato a resistenza ed eventualmente l'incrocio di questa trendline discendente. Ok? Questo è più o meno quelli che sono i target di breve breve termine su quello che è bitcoin. Per quanto riguarda la market cap si sta mantenendo prettamente sideways 1.86 trillion, anche qua nulla di particolare e uguale vale per la dominance. Leggera, più che altro sesta giornata di fila positiva non stiamo avendo chissà che incrementi sostanziali perché vedete dalle shadow si parla di un 2% massimo, anzi un 1% massimo quindi non abbiamo nulla di particolare però ovviamente registriamo un incremento della dominance di fronte a un mercato che è leggermente scarico. Ethereum, anche lui si mantiene abbastanza debole, lo vedete, 2.865 dollari in questo momento ovviamente la pattern sta seguendo molto quello che è l'andamento di bitcoin. Anche per Ethereum un'eventuale rottura di questi minimi secondo me potrebbe farlo accelerare almeno sul supporto della media mobile a 200 EMA che per lui si trova a 2.560 questa zona qua. Vedremo, vedremo anche per lui appunto nelle prossime ore. Il mio è un update molto rapido ragazzi perché non è successo granché però ci tengo a farvi vedere appunto questi livelli e a cercare di leggere i grafici. Noi non leggiamo le chart, non facciamo analisi tecnica per predire il futuro, ok? Io su questo ci tengo sempre a delinearlo, ok? Il mio obiettivo non è dirvi domani andiamo a 50, dopo domani andiamo a 36. Il mio obiettivo è quello di ragionare con voi cercando di lasciarvi qualcosa sul quale ragionare, su quelli che sono i miei livelli e voi dovete prendere questi livelli a paragonarli con la vostra analisi e capire se magari anche voi la pensate come me oppure no, ok? Io non ho la verità in tasca, voi non l'avete, quindi è un confronto. L'analisi tecnica serve per guidarci all'interno di un percorso del prezzo che non è sempre chiaro, ok? Quindi dobbiamo cercare di trovare diversi indicatori. È ovvio che in una fase di questo tipo qua siamo in una consolidazione prettamente bearish perché non stiamo avendo reazione, però Bitcoin ci ha abituato nel suo passato, lo potete vedere tranquillamente anche da questa conformazione di qualche mese fa, se ve la faccio vedere così, ok? È molto bearish a fare quello che poi ha fatto, ok? Da qui tutti chiamavano i 20 e poi siamo partiti, ok? Quindi attenzione a questo. Per quello noi non possiamo mai dare per scontato nulla su questo settore ma dobbiamo ragionare per livelli perché sono l'unica, a mio parere, ovviamente magari mi sbaglio, però la mia idea è questa, l'unica zona in cui noi abbiamo possibilità di poter ragionare con maggiore consapevolezza. A livello orario non abbiamo nulla di più da dire perché lo vedete, molto molto chiaro il trend, ok? Dobbiamo vedere se andremo in prima battuta a invertire il trend orario. Se andremo a invertire il trend orario a quel punto potremo ragionare su livelli superiori. Questo è abbastanza direi chiaro. Ragazzi, non voglio andare oltre perché non voglio aggiungere altro. Una situazione di mercato molto stazionaria, molto cioppi, ok? Lo vediamo anche sulle altre alz, non c'è nulla di particolare da segnalare, stiamo avendo continuazione sul movimento di ieri senza neanche chissà quanti volumi, quindi stiamo leggermente andando a trovare un floor, di trovare un bottom. A quel punto vedere se il rimbalzo sarà altrettanto forte da poterci portare sui nostri livelli di attenzione. Io mi fermo qua. Qualora questo contenuto vi sia stato utile e interessante, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale con un clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo domani mattina col consueto Morning With Crypto dove analizzeremo meglio tutte le situazioni di mercato. Ragazzi, ancora una volta vi auguro una buona serata a tutti. Ciao!